Tele Durruti, una televisione monolocale. Trovate il barone Darius Evola al posto del Marchese Fulvio Abbate. Siamo qui in una strada assolutamente storica, importante, un pezzo, l'ultimo pezzo di Viale Glorioso, Trastevere. Che cosa troviamo? Anche qui dove abitava Argan, vicino, vicino Argan è lì il grande regista Leone di Filippo Casini, guardate che cosa troviamo? Un obbrobbio, un obbrobbio di queste cazzo di scritte che si trovano in tutta la città e ci stanno rompendo i coglioni con l'arte, la street art, tutte queste facce di cazzo, di hipsters dell'arte contemporanea che hanno rotto i coglioni, basta con questi obbrobbi, queste stupidità, queste banalità che vogliono far passare per l'arte, non c'entra assolutamente niente. Solo il situazionismo può dare veramente un eros e una spinta di libertà a quello che una volta era l'arte. Per le Zurruti, una televisione monolocale.